Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video voglio parlarvi di queste, le cuffie wireless per Xbox One, PC smartphone, tablet e Xbox Series. Pensate per quest'ultima generazione di console. Perché le affianco alle Pulse 3D wireless di cui vi ho parlato tempo fa? Perché voglio fare alcune differenze rispetto alle cuffie ufficiali di Sony per PS5. Partiamo prima di tutto dalle cuffie Microsoft. Sono ufficiali Xbox, infatti come potete vedere c'è il logo Xbox, vedete, e possono essere utilizzate sia con la connettività wireless senza chiavetta. Quindi a differenza delle Pulse non hanno chiavetta. Potete sincronizzarle alla console con questo tastino direttamente come se fosse un controller. E questo è un pregio. Oppure con la connettività Bluetooth, quindi potete utilizzarle con smartphone, tablet, PC. E avete la possibilità di utilizzare queste cuffie simultaneamente, quindi allo stesso tempo, con più fonti. Quindi magari potete ascoltare da una parte la TV tramite la connettività Bluetooth e dall'altra la Xbox, ad esempio. Le cuffie sono estremamente generosi come padiglioni. Diciamo sono molto molto simili a quelli di Sony. Quelli di Sony sono più rotondi, invece quelli di Microsoft sono più, diciamo, allargati, più lunghi. Ma la comodità è la stessa. Infatti come vedete, o meglio come percepite, sono morbidi entrambi. Quindi sono molto molto comode. Con una carica ci fate circa 15 ore. E come potete vedere, a parte questo pulsantino che permette di accendere le cuffie e di sincronizzarle, non so se ascoltate l'audio, penso di no. E questo pulsantino che permette di accendere o spegnere il microfono, che tra l'altro, come vedete, ha anche un LED. Infatti se accendete e spegnete, oltre il suono c'è anche il LED. Non ci sono altri tasti, a differenza, diciamo, dell'Handset PlayStation che ha tantissimi tasti su questo padiglione. Qui non ci sono tasti. Vi starete chiedendo, ok, ma come faccio a regolare il volume delle cuffie e decidere se dare priorità alla cuffia o al party? Semplice, attraverso la rotazione dei padiglioni. E la cosa simpatica è che, a parte che c'è un fine corsa, quindi non è che potete girare all'infinito, a un certo punto non gira più. Quindi questo è il massimo, questo è il minimo, per quanto riguarda il volume. Di qua invece potete decidere se dare priorità al gioco oppure alla chat. Sempre con il fine corsa, ma con l'aggiunta di uno scatto. Quindi quando arrivate qui la cuffia vi fa capire che, diciamo, il volume è bilanciato metà chat, metà gioco. Quindi, diciamo, in questo modo potete regolarvi anche voi. Non ci sono altri tasti. Quindi, diciamo, l'unico tasto è questo per accendere e spegnere il microfono, accendere le cuffie o sincronizzarle e i padiglioni ruotabili. Quindi non ci sono altri tasti, a differenza delle Pulse, che hanno tanti tasti. Quindi, diciamo, su questo io penso che le cuffie Microsoft siano migliori. Per comodità, diciamo, sono molto simili alla fine. Io ho utilizzato queste cuffie come le Pulse per tanto tempo, non ho avuto problemi di sudore, cuffie pesanti, male alle orecchie. Cioè, sono veramente molto comode. Ovviamente sono regolabili, come potete vedere, sia a destra che a sinistra. L'archetto è molto morbido, così come i padiglioni. Però, però, il costo è lo stesso, quindi 100 e 100. Quindi il costo è lo stesso. Però, sinceramente, rispetto alle level 50 di cui vi ho parlato tempo fa, c'è una cosa che personalmente a me non piace. Io sono abituato, quando utilizzo le cuffie come le Pulse, le Corsair e altre, a sentire la mia voce nelle cuffie. Purtroppo con quelle Microsoft non è possibile, perché, diciamo, queste cuffie vi isolano completamente. Quindi non sentite nulla nell'ambiente esterno. Il che da una parte è bene se dovete giocare, ma se dovete parlare, io personalmente preferisco sentire la mia voce. E qui non è possibile. Anche se dalla dashboard della console, tramite l'applicazione accessorio, potete, diciamo, configurare e personalizzare le cuffie, anche tramite l'applicazione Dolby Atmos, che è gratis per sei mesi se acquistate queste cuffie, o costa 18 euro per sempre tra sei mesi. Quindi non vi è questo effetto che io preferisco. Quindi tra le level 50, che sono cuffie non ufficiali, e le Microsoft, su questo aspetto preferisco le level 50. Il costo, bene o male, è simile. Quindi, diciamo, anche le level 50, pur non essendo ufficiali, sono comunque ottime cuffie. Come comparto audio, nulla da dire. Sono davvero eccezionali. Hanno ottimi bassi, possono essere facilmente regolabili, sono accessibili, immediate, comode, 15 ore di autonomia. Insomma, sono davvero un ottimo prodotto per giocare. Se, come diciamo nel mio caso, volete ascoltare la vostra voce all'interno dei padiglioni, allora non vi consiglio di acquistarle. Altrimenti sono davvero eccellenti. Ovviamente non aspettatevi l'effetto 3D delle Pulse, però, diciamo, sono davvero ottime. Poi il microfono è omnidirezionale, quindi riesce a captare la voce al meglio, in modo chiaro, cristallino, da qualsiasi direzione. Il costo di queste cuffie è di 100 euro, e attualmente sono introvabili, o vendute a prezzi disonesti, un po' come le Pulse 3D. Quindi, se volete acquistarle, comunque le trovate su Amazon o presso rivenditori specializzati, non appena, ovviamente, torneranno disponibili. Come vi ho anticipato prima, non avrete bisogno di alcuna chiavetta. Ovviamente, se le utilizzate sul PC, avete bisogno o di un, diciamo, dongle Bluetooth o della chiavetta ufficiale Microsoft. Ma se le utilizzate con smartphone, tablet o con la console, non avete bisogno di niente, perché potete sincronizzarle direttamente da qui, come se fosse un normalissimo controller o un headset Bluetooth. Quindi questo è tutto per quanto riguarda le cuffie Microsoft per PC, smartphone, tablet, Xbox One e Next Gen.